L'atleta saccense Giuseppe Marciante, in forza al circolo schermistico mazzarese, si è qualificato per il campionato italiano assoluto di Sciabola. Il pass è stato staccato a Lucca nell'ambito della seconda prova di qualificazione assoluta. Una cremesse a cui hanno partecipato atleti di elevata caratura e provenienti da tutta Italia. Il campionato italiano assoluto si terrà a giugno a Cagliari. Per Marciante la qualificazione è giunta non soltanto con il 53esimo posto di Lucca ma dopo la somma delle due prove di qualificazioni assolute nazionali. L'atleta saccense, che giornalmente si allena a Mazzara del Vallo, ha dimostrato talento e dedizione e si è guadagnato il suo posto tra i migliori schermidori del paese. Infatti è al 47esimo posto come atleta nel ranking assoluto nazionale di Sciabola maschile. Non possiamo che ritenerci soddisfatti, afferma il maestro Giuseppe Pugliese. Siamo orgogliosi di continuare la nostra storica presenza al campionato italiano assoluto. Non sarà di certo una competizione semplice quella di Cagliari, perché ci confronteremo con chi andrà a rappresentare l'Italia ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024, ma affronteremo la gara con la giusta determinazione e concentrazione, perché abbiamo la responsabilità di mostrare che la scherma siciliana è sempre un'eccellenza nello scenario nazionale. Per Marciante dunque una bella possibilità per potersi confrontare con atleti importanti e proveniendo da un'associazione siciliana. La sua performance, scrive la Società Trapanese, è stata un esempio di impegno e passione per lo sport, ed ha dimostrato che con duro lavoro ed edizione è possibile raggiungere sempre obiettivi importanti.